I sospetti che la Camorra abbia messo occhi e soldi su spiagge e alberghi di Rimini sono forti. La pandemia ha sottolineato la fragilità economico-sociale che colpisce soprattutto il settore alberghiero, anima dell'economia del territorio. Il prefetto della città romagnola, Giuseppe Forlenza, sottolinea è indubbio che questa vulnerabilità possa costituire terreno fertile per la criminalità organizzata. Dopo l'aggiornamento del protocollo per la tutela della legalità nel settore alberghiero e mentre è in arrivo un protocollo antimafia per le banche, il prefetto alza ancora di più l'attenzione. Da settembre ad oggi 10 interdittive antimafia su 13 a Rimini hanno riguardato alberghi. È necessario, dice Patrizia Rianaldis, presidente dell'Associazione Albergatori, un monitoraggio del mercato. Il mio è un costante appello anche alla società civile. Fate attenzione, non svendiamo una parte del territorio. Il grido d'allarme arriva anche dal segretario regionale Will, Giuliano Zignani, che denuncia attività come lavatrici per riciclare soldi sporchi. Grazie. Grazie.